Buonasera a tutti voi che ci seguite. Oggi è il 19 aprile 2013 e apriamo i programmi con questo consueto spazio di personale mio baniloquio. Oggi l'attività di LibreTV è stata tutta quanta un'impronta e tesa alla documentazione di quello che sta accadendo un pochino a Roma che ospita i palazzi del potere e cioè praticamente le elezioni del capo dello Stato. Io non ho memoria di elezioni del capo dello Stato in passato che hanno visto una partecipazione di popolo ovviamente solo a fine così di dimostrazione e di propaganda perché ovviamente come sappiamo il capo dello Stato lo elengono i grandi elettori, deputati senatori, rappresentanti delle regioni e oggi a Montecitorio ci stava molta gente e abbiamo infatti questa virgola vuole farla un pochino anche collegata ad un video che ben fra qualche ora avrete su LibreTV. Perché? Perché abbiamo documentato un po' questa situazione di grande malcontento che vedremo un pochino di analizzare rapidamente di cosa si trattava e poi peraltro abbiamo avuto la fortuna, se così possiamo dire, di vedere un gran numero di deputati delle PDL, della Lega meno, ma comunque sia questo perché alla quarta votazione PDL è uscito dall'Aula ed è stato in piazza, era una bella giornata e in qualche modo al sicuro, dai cordoni di sicurezza si sono voluti un po' lo spettacolo di tutte queste manifestazioni di pensiero, ho volato qualche insulto, ma insomma. E quindi che cosa abbiamo girato? E soprattutto perché il motivo di questo malcontento? Ci stavano dei gruppi organizzati, dei gruppi sicuramente di grillini che inneggiava una rodotà, ci stavano dei gruppi della destra e ci stava anche chi era molto molto deluso dal comportamento del PD, in particolare di Bersani che ha proposto i giorni scorsi la candidatura di Marini in accordo con Berlusconi. È ormai storia perché la candidatura di Marini è archiviata, soltanto che qualcosa a mio parere, qui entriamo un pochino nell'analisi che mi permetto di fare, qualcosa resterà, qualcosa resterà perché sicuramente il partito si è spaccato e si è spaccato per quali motivi? Dobbiamo ricordare che queste elezioni sono caratterizzate dal fatto che queste elezioni del capo dello Stato sono caratterizzate dal fatto che sono molto vicine a delle elezioni politiche che ci sono state, poi vedremo, si caratterizzano anche per un'altra cosa, lo vedremo dopo. E quindi le promesse elettorali ancora sono recenti nelle orecchie delle persone e Bersani aveva detto che non avrebbe mai fatto accordi con Berlusconi, è vero che si riferiva al governo, ma certo l'elettorato della sinistra del PD ha ancora in mente queste promesse e questa candidatura di Marini in accordo con Berlusconi, addirittura si parla del fatto che sia stato Berlusconi a proporla a Marini, insomma, non è andata a genio e infatti molte molte erano le voci di protesta. Peraltro questo Presidente, che in qualche modo dovrà, le candidature dovranno essere proposte in primis dal PD perché è il partito, anche se per poco di maggioranza relativa, questo Presidente la prima cosa che dovrà fare sarà dare un incarico, un incarico per fare un governo, perché ricordiamoci ancora non abbiamo un governo. Ed è chiaro che le due cose, essendo due avvenimenti, cioè l'elezione del Capo dello Stato e la vicinanza con un incarico di governo che si dovrà dare, questo è l'altro elemento che caratterizza queste elezioni presidenziali, questa vicinanza è così inconsueta che pensare che le due cose non si intersechino tra loro e che arrestino a compartimenti stagni, a mio parere sarebbe almeno ingenuo. Sono due avvenimenti importantissimi che avvengono in tempi così ristretti. peraltro il partito di Bersani è il partito, secondo gli esiti elettorali, che ha avuto il candidato premio Bersani e che quindi dovrebbe essere colui che ha investito del compito di fare il prossimo governo. Non ha avuto ancora un incarico, ha avuto un mandato esplorativo, quindi insomma il fatto che debba comunque sia lui scegliere, proporre dei nuovi nomi e che questo nome gli dovrà dare un incarico, presumibilmente dovrà darlo a lui, secondo me sono cose che tra loro si influenzano a vicenda. Comunque Marini è stato bruciato, che cosa resta? sicuramente la grossa frattura che si è creata nel PD. I Renziani, ma neanche soltanto loro, hanno preso ovviamente le distanze e si sono anche ingrossate le file dei Renziani. Peraltro si parla già, si vocifra già della necessità di un prossimo congresso delle PD, dove ovviamente nei congressi la cosa più importante che si prende in esame è proprio il rinnovo, l'elezione delle cariche elettive. In questa giornata io ho avuto la possibilità di chiedere, e questo vi lascio a voi scoprire a chi e come, perché appunto lo vedrete in questo video che stiamo per pubblicare. Mi sono chiesto una cosa, come mai gli elettori del PD e per i motivi che abbiamo detto si sono, come dire, così alterati del fatto appunto che Bersani abbia proposto insieme a Berlusconi questa candidatura di Marini. Cioè praticamente c'è stato questo tradimento di ciò che in qualche modo aveva detto Bersani nessun accordo con Berlusconi e così via, mentre invece gli elettori del PDL, sapendo appunto che Berlusconi ha portato avanti l'anticomunismo come uno dei suoi cavalli di battaglia anche in campagna elettorale, non hanno detto nulla di questo avvicinamento, perché comunque sia quando si parla di questo termine inciucio sono sempre due o tre, insomma non si fa mai da solo un inciucio, si fa sempre in collaborazione con qualcun altro. Gli elettori del PDL non hanno detto nulla, non si sono sentiti in qualche modo traditi da questo avvicinamento di Berlusconi a trattative con Bersani. Comunque sia oggi, è stato tirato fuori in una riunione mattutina, prima appunto dell'inizio dei lavori dell'Assemblea di Camere Riunite, dell'Udienza Camere Riunite e della Camera e del Senato, che cominciano alle 10, una riunione del PD è stato tirato fuori il nome di Prodi. Praticamente questo nome, che peraltro ha visto durante la votazione l'assenza della quarta votazione di PDL e Lega, non è riuscito a passare, anzi è stato ben lontano dalla soglia minima per poter essere eletto, che appunto nella quarta votazione ormai era del 50% più uno. Sono mancati tutti i 100 voti, quindi si è parlato di franchi tiratori, ma insomma più che tiratori erano veramente dei plotoni, perché insomma erano parecchio numerosi. E quindi non ha raggiunto il quorum e pare che anche il nome di Prodi ormai sia da archiviare, vedremo. Intanto, oltre appunto a questa intervista che abbiamo fatto, abbiamo un po' ripreso anche appunto la piazza, una piazza, una piazza a me un po' da romano mi sembra una cosa da dirvi, da sottolinearvi, perché io questa città dove vivo mi piacerebbe poterla vivere insomma con una certa anche libertà, a prescindere dal fatto che vi siano i palazzi del potere. Comunque sì, era una città blindata, soprattutto nel centro storico era una piazza inaccessibile ai turisti anche che vagavano un po' stupiti, non tanto per il clamore, ma insomma perché ci stavano questi gruppi organizzati che peraltro si sfidavano anche in dispute canore, l'abbiamo documentato. Quindi in questa piazza non si poteva entrare, a meno che non si fosse giornalisti professionisti, poi per fortuna in qualche modo siamo riusciti a entrare lo stesso per poter documentare, oppure i deputati, poi ci sta un'altra area di super sicurezza più vicina all'entrata a Montecitorio in cui non poteva passare nessuno tranne i deputati che entravano e uscivano. Insomma è veramente una questione di ordine pubblico un'elezione del capo dello Stato, insomma sono delle riflessioni che a me da cittadino di Roma esprimo con una certa amarezza. Un'ultima cosa vorrei dirvi, ed è un po' un mio auspicio, c'è stata questa girandola di nomi, queste candidature che sono state messe alla prova, candidature neanche messe alla prova subito sfumate, bruciate e a questo punto appunto si impone la necessità di nuovi nomi. Io non vedo come, anche se sono un po' di parte, però non vedo come si possa continuare a trascurare il nome di Emma Bonino, che sarebbe appunto una candidatura che secondo me se venisse proposta seriamente, cioè in un momento di trattativa e di proposizione importante, ufficiale da parte delle forze immunitiche maggiori, potrebbe veramente trovare l'accordo di molte persone e riuscire a essere votata secondo me anche con un'ampia maggioranza del oltre il 50%. E non si tratta soltanto del nuovismo di genere, ma si tratta anche dello spessore, dello spessore che questo nome e questa persona che è Emma Bonino porta con sé conoscenza politica, conoscenza dal punto di vista internazionale e quindi non capisco come, anche questo abbiamo chiesto ad un deputato grillino, ma anche a Maria Carfagna, perché secondo loro è Emma Bonino, che peraltro stava in vantaggio in tutti quanti i sondaggi che venivano fatti, per quanto potesse essere più o meno attendibile un sondaggio, stava in ampio vantaggio rispetto agli altri e quindi eppure viene completamente ignorato. Vedremo se avranno il coraggio di tirarlo fuori, domani ci sarà la quinta votazione alle 10. Per il resto io passerei a illustrarvi il parincesto di oggi, dandovi appuntamento appunto come diciamo prosecuzione di queste mie cose che vi ho detto al video che metteremo online fra qualche ora, passerei appunto a illustrarvi il parincesto. Dopo la virgola del direttore alle 20.45 avremo uno spazio Società Libera, la conversazione con Vincenzo Olita, direttore di Società Libera e la conduce Marco Marchese. Alle 21.15 striscia filosofica, un dialogo sull'arte con Renato Calligaro, la presentazione del volume Le pagine del tempo scritti sull'arte, Mimesis Edizioni, con Damiano Cantone e l'artista appunto Renato Calligaro. Questo è a cura di Luca Taddio. Alle 21.45 a Tauro con il femminismo. Psicanalisi e femminismo, conversazione con Paola Zaretti, psicanalista. Queste sono appunto le consuete note di lettura di Giancarlo Calciolari. Chiuderemo le trasmissioni questa sera con lo Spazio Life alle 22.15, lo Spazio Life alla consueta trasmissione sull'animalismo antispecismo, che viene condotta e curata da Giovanna Devetag, segretario dell'Associazione Radicale Parte in Causa. Questa trasmissione è intitolata Like me, mente e diritti degli altri animali. Conversazione con Domenica Bruni, dottore di ricerca in scienze cognitive presso l'Università di Messina, sul secondo numero di Animal Study, rivista italiana di antispecismo. Prevediamo, sempre se non ci sono problemi, alle 22.45 la chiusura delle trasmissioni. Io ringrazio Dona Volpicella per la regia, come tutte le sere di questa serata. Vi ricordo che LibriTV è un'associazione che si sostiene da sola, che sarebbe gradito che vi iscriveste per darci una mano. È abbastanza economico. Restituisco la linea alla regia, continuate a seguirci su Libri.tv. Grazie.